La decisione era nell'area, l'avevamo anche già anticipata qualche giorno fa, delle possibili eventuali dimissioni del direttore sportivo Sergio Cranesalini per i programmi che sono stati stravolti rispetto a quelli iniziali in questo campionato. Purtroppo, definiamolo così, alla vigilia della derby con il Real Forte Querceta e sono arrivate proprio ufficialmente le dimissioni. Come mai Sergio Cranesalini? Sì, hai detto bene, siamo partiti questa stagione con progetti e programmi di un certo tipo, in mezzo comunque a tante difficoltà già iniziali, però ci eravamo dedicati io e altri, insomma io comunque mi ero dedicato a portare avanti questo tipo di lavoro che obiettivamente ora non ha seguito e quindi prendo atto di questa situazione e a malincuore dopo qualche giorno di pensieri penso sia arrivato il momento di fare un passo indietro. Nove anni nel Viareggio, prima ancora con l'esperia hai lasciato per strada una milza proprio per il Viareggio nei play-out a Livorno con la Paganese, ad Avellino in Lega Pro hai terminato la carriera da calciatore per un grave problema, alla Ginocchio quattro anni di direttore sportivo, prima in Lega Pro e poi in eccellenza ora in Serie D, ecco cosa ti rimane di tutto dentro? Viareggio per me è stata la seconda casa e tutti i giorni fare la strada da casa a Viareggio era ormai un'abitudine, una cosa insomma che faceva parte di me, della mia vita, del quotidiano. Chissà che un domani questa porta che ora socchiudi si possa riaprire qua a Viareggio? Quello mai dire mai, io spero, preferirei pensare che sia un ciao e non un addio, sarò sempre comunque un tifoso chiaramente del Viareggio perché mi è rimasto dentro come è normale che sia. Io mi permetto di abbracciarti per salutarti anche a nome io credo della stramaggioranza dei tifosi del Viareggio perché ci hai lasciato grande emozione e mi dispiace.